Ci sono quasi Aspetta ma Qui che devo arrivare? Arrivo! Eh, piano Oh Eccomi qua, salve! Secondo Keqing Dovremmo dire così Scusate Vendete la luna qui? Eh? Sì Quante ne volete? Non è molto indicato parlare di numeri in questo luogo Sì? C'è dato il suo codice Oh, Ningguang Elegante Ti stavo aspettando Tu che sei di ritorno dai monti You and you Oh, bene You have my thanks It seems that I have made things difficult for you considering that you were supposed to be my guests Davvero bella questa dimora di Giada È la prima volta che raggiungo un posto tanto elevato Prima volta? Non credo C'è anche il monte che è elevato Diciamo i complimenti della casa Non è la prima volta che raggiungiamo un posto così tanto elevato Tipo il palazzo di Ho iniziato a raccogliere i fondi necessari per edificarlo quando ho cominciato ad apprendere i segreti dei mercanti E quando sono diventata una Tianquan Non ho abbadato a spese per ingaggiare i migliori artigiani ed espanderlo sempre più Oh Ma vuoi coprire il mondo con il tuo palazzo? Ci vivi solo tu? Alla Tianquan Anbizeno Ma anche di certo Ma Laura Vergoldet, era una dei tuoi? Oh. Di recente ci siamo anche imbattuti nella Yuheng. Ti ha detto che vedi tutto. I nostri occhi e le nostre orecchie sono più che sufficienti. Siete due persone molto interessanti, dopo tutto. Sviluppare un certo interesse è naturale. Keqing ha detto che le sette stelle non avrebbero mai voluto il male di Neslapis. Parla con Ningguan. Salve a tutti. Non ci inviti per il tè. Ci vede la montagna lassù. Vedi che non è che proprio sia il posto più alto. C'è anche quella montagna là. E anche quella piattaforma lassù. Credo che abbiate sentito parlare della guerra degli Archon. Un tempo molti dèi vivevano in questo mondo. E per duemila anni combatterono molte lunghe guerre. Si versa molta sangue. E innumerevoli vite furono perse. Da qui si vede la foresta di pietra di Goyun. Vero? Non è una formazione rocciosa naturale. Quelle sono lance di roccia gigantesche scagliate da Neslapis durante la guerra. Sotto di esse giacciono coloro che Rex Lapis confisse a quei tempi. dei che non riuscirono a guadagnarsi il titolo di Archon. Non solo gli dèi possono morire. Ma anche i membri dei sette sono cambiati negli ultimi due millenni. La morte di Rex Lapis è un disastro inimmaginabile per Liyue. Ma l'ordine dei sette non crollerà semplicemente per questo. Un altro lord di Geo arriverà più tardi o più tardi. Ma come dovremmo ricordare Rex Lapis? Quando il tempo arriva. La relazione tra le persone di Liyue e gli dottori di Adepti verrà certe repercussioni. Persino in una nuova era. Le sette stelle di Liyue rimangono gli etze sudditi di Rex Lapis. Ci credete davvero capaci di aver cospirato per causarne la morte? O credete che non avessimo la capacità di prevederne le ovvie ripercussioni? Ma perché nascondere le suvi allora? Sì, in effetti è ricostrannata. Il nostro nemico si ceda da tempo all'interno del porto. Se non agiamo subito contro di lui, otterrà di certo un vantaggio su di noi. Io ho un vago sospetto. Cosa è questo nemico di cui parli? Paimon? Forse l'abbiamo visto. Cosa pensi, viaggiatrice? Secondo te? Viaggiatrice? E... Lui? Non è vero? Eh? Di cosa state parlando voi? Paimon? Paimon? Ben detto. Potrebbe sfruttare il codice. Noi sappiamo che ci sta seguendo. E ha orecchie ovunque. Anche lui. Oh! Oh! Paimon? Non toccare niente! Che bel posto! Pulito! Grande! Elegante! Elegante! Ante! Lei stava facendo finta di pulire. Oh! Tutt'altra cosa rispetto al... quartier generale dei Favonius. Non che sia brutto quello di là, eh! Oh! Un libricino! Posso permettermi di prendere... i libricini nella sua biblioteca? Sa sono una collezionista... Oh! Questo! Questa è la bacheca che diceva la storia. Ha tutte le informazioni. Ma lei già ha deciso. Oh, grazie! Con discrezione e educazione. Sembra molto, molto gentile. È quello che credo. Sìììììììììì. C'è la tua storia raccontata. I mercanti sono sempre stati attratti dai segreti Ecco Eh mi sei simpatica Ningguan Ma se dovessi scegliere di chi fidarti tra me e Keqing Sceglieresti Keqing Un po' me lo sentivo Non ho detto questo Ah ecco Sceglieresti Parali Immagino che dietro a queste dicerie ci siano anche i Fatui Esatto Come a Mondstadt Ho ordinato io l'obbligo di silenzio e che le zuvia venisse nascosta In modo da Ho ordinato io l'obbligo di silenzio e che le zuvia venisse nascosta In modo da stabilizzare temporaneamente la situazione ed evitare che si ripetesse qualcosa di simile all'incidente di Mondstadt Ecco C'è un po' me lo sentivo C'è un po' me lo sentivo Anche guadagnarete il tempo per consentirci di assumere il controllo amministrativo di Niue C'è un po' me lo sentivo E per Vimi e Paimon Stai dicendo sul serio Paimon? Come no Stiamo parlando di cose in serie Oh non ti preoccupare Mi piacciono le persone senza peli sulla lingua Ma non è il momento Paimon Ma non puoi chiedere una cosa del genere La castina vuoi dire Vediamo che c'è scritto Vediamo che c'è scritto Fatui, ricerche, copio. Questo foglio dice che una spia dalle sette stelle ha trovato delle tracce di ricerche segrete dei Fatui sul sigillo del consenso. È tutto un po' troppo perfetto. Chiaramente Ningguang sta cercando di condurci a queste conclusioni. No, quello che intendo è... Oh, quindi stai dicendo che è proprio perché non ci si può fidare del tutto di... Nooo! È una cosa che Paimon non capisce bene. E con Paimon lei è stata molto buona con... Ma infatti... Mmm, comunque, vediamo se ti andiamo a qualcosa. Ehm... Se vi va lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi e noi ci rivediamo nel prossimo video. Grazie a tutti! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!